Wabalaba dab dab e bentornati su Noma Mammazzo, bentornati nella rubrica Dilan Dog, nella rubrica Fumetti. Oggi parliamo insieme a voi di Dilan Dog, serie regolare numero 430, Abissi Boreali, soggetto sceneggiatura e disegni di Carlo Ambrosini. Parliamone insieme. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri. Che vi frega di condividere il video con tutte le persone che non hanno apprezzato questo numero e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso. Seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch su cui faccio delle live, su cui potete seguirmi, su quello che faccio oltre a YouTube. Ammetto subito che quando vidi la copertina di Abissi Boreali, il mio primo pensiero è andato al fatto che già di recente avevamo visto una storia che parlava del passato, dei miti di un tempo e non pochi numeri fa, che mi riferisco a Nella stanza del guerriero. Altro numero che a me non era piaciuto particolarmente, anzi non era piaciuto per niente. Già in questo numero c'era, se non sbaglio, un guerriero nordico che scappava, in questo caso, dall'impero romano. Si rifugiava nella stanza di una tizia che fondamentalmente era un portale, un tipo Narnia, questo armadio, e la tizia a sua volta aveva discendenze nordiche. Però in tutto questo io davvero non ci ho trovato niente di Dilan Dogg, nella maniera più assoluta. E quando ho visto questa copertina con un altro guerriero del passato, ho detto Ahia, qua mi puzza di un albo che sarà la stessa cosa. Con mia sorpresa poi ho scoperto che entrambi gli albi erano di Ambrosini, mentre se in questo i disegni erano di Gabriele Ornigotti, qua invece testo e disegni sono tutti di Ambrosini. Quindi diciamo che c'è proprio una recidività da parte dell'autore nel parlare di questo argomento. E c'è anche una recidività da parte del curatore nel pubblicarlo, perché devo dire, io queste due storie non le avrei messe nemmeno nell'Old Boy, non mi dicono assolutamente niente. Se però, che non è da sottovalutare, nel numero precedente i disegni quantomeno erano decenti, erano molto belli, qua lo stile, così dicono, lo stile di Ambrosini, in questo numero, pare volutamente essere solo abbozzato. Ora, io posso metterci tutto il volutamente che si vuole, ma quando si è a questi livelli di abbozzatura, a me sembra proprio che o non abbia avuto tempo di rifinirlo, o... non lo so. Però... già la storia non è assolutamente bella. Se poi pure i disegni sono in queste condizioni, non riesco davvero a sopportarlo. Poi ok, sono gusti, bla bla bla, l'ho detto già in altri numeri. Se non ci piace il disegno, non è che il disegno è brutto, è semplicemente che questo tipo di stile di disegno non va verso il nostro gusto personale. E questo è il mio caso. Detto ciò, oltre a questo, io ci ho trovato proprio un'incompletezza generale che, non lo so, sembra che abbiano unito l'utile al dilettevole. Cioè, dici, ah sì, dato che Dylan Dog è sperimentale, ognuno fa il suo stile di disegno, facciamo un po' questo stile abbozzato. Anche perché non ho ancora finito di farlo. Cioè, sembra proprio che dicono, vabbè, ma sai che c'è... così, a cazzo de cane, no? Poi magari mi sbaglierò, magari è davvero voluto così, però se fosse stato voluto così, secondo me, molte cose sarebbero state migliori. Mi riferisco magari allo sfondo, alla scena del concerto, dove non si può non notare quanta, non so, raffazzonaggine ci sia in tutto ciò. Io posso capire e dare un'idea di primi piani, appunto, semplicemente abbozzati, ma tutto, tutto, tutto così, con ancora le linee di prospettiva quando c'è l'inquadratura di un palazzo, eccetera. Secondo me si va ben oltre lo stile, ma si va proprio a aver pubblicato un lavoro che probabilmente, non lo so, era incompleto. Una cosa carina sarebbe stata per questo numero, anche alla luce del racconto che è molto strano per i parametri dilaniati, sarebbe stato prendere uno stile di disegno così abbozzato e colorarlo e metterlo nel Colorfest. In questo caso io avrei apprezzato molto l'esperimento, perché il contrasto di un disegno appena abbozzato con i colori pieni del Colorfest avrebbero potuto dare un ottimo risultato. Così non è stato, quindi dal punto di vista grafico non mi è piaciuto per niente. Parliamo della storia, la storia appunto sembra parlare di queste tre sorelle che vivono appunto in un certo senso in due corpi separati, nelle loro culle di infanzia che sono all'interno di questo santuario che è stato da poco scoperto, e vivono anche una vita presente in qualche modo, in un certo senso, immortale. E lo stesso Dylan Dog, quando viene a contatto con una di queste tre sorelle, si spezza in due e vive in un certo senso due vite per un breve periodo. Ora, questa parte è anche carina, ma tutto il discorso sul nulla, sul tornare al nulla, nulla eravamo, nulla saremo, trattare il termine nulla come se fosse la descrizione di un oggetto e metterla all'interno di un discorso è davvero assurda, non ha nessun senso, può essere filosofica, può essere filologica, metteteci quello che volete, ma non prendiamoci in giro. È tutta una gran supercazzola, fondamentalmente, mi scuseranno i patiti della mitologia nordica, però veramente non si può. In tutto questo discorso supercazzoloso mi è piaciuto comunque il concetto di eternità e di quello che si è fatto nella propria vita resti eterno, che è un concetto molto cristiano, come lo si intendeva all'origine dei tempi. Se voi andate appunto alle radici di quello che è il concetto di vita eterna dal punto di vista biblico, vi spiegheranno come la vita di una persona è eterna, non perché appunto risorgeremo e quindi vivremo per sempre, ma perché tutta la nostra vita, che ha un inizio e ha una fine, è eterna, perché non c'è un'altra vita uguale, identica a quella che abbiamo vissuto. La nostra vita è nostra ed è eterna, sarà per sempre quella vita, sarà per sempre eterna, nel senso che è incastonata nell'eternità quel pezzo di vita che noi abbiamo contribuito a rendere tale. Quindi questo concetto di vita eterna, cioè questo concetto di eterno e immortale è a me anche piaciuto, però davvero l'hanno proprio spiegato, non è che l'hanno spiegato male, l'hanno voluto tenere molto filosofico e secondo me non è assolutamente adatto al pubblico di riferimento. Inoltre l'aggiunta della nipotina, già è un casino che c'è il padre degli dèi, questo Gorn che è fratello di questa vecchietta qui che ha generato le tre figlie con un mortale e una di queste tre figlie ha generato un'altra figlia, questa Lempi che è una bambina che per qualche strana ragione ha dei poteri, cioè ok perché è mezza divina va bene, però così a casissimo, mentre le madri non hanno poteri. E poi a un certo punto viene buttato lì il fatto che sia pure autistica, senza motivo, cioè perché non... è tipo del, non lo so, ability baiting, non lo so, l'hanno buttato lì a caso, poi ho detto, boh, è nordica, è autistica, forse vogliono citare Greta Thunberg, forse è un numero che va a parare sulla salvezza del pianeta, sull'inquinamento, invece no, resta comunque così tutto molto etereo, molto vago, molto, come si dice, molto fiabesco, no? E quindi dico, non so nemmeno perché hanno citato questa cosa, ci sta la presenza della nipotina, perché l'altra metà di Dylan Dog deve comunque interagire con qualcuno che gli spieghi le cose. Ma anche tutto questo fatto che c'è un mezzo Dylan di qua, un mezzo Dylan di là, sembra quasi che non ci stesse tutto il racconto nelle 96 pagine, allora Ambrosini ha detto, ma sai che c'è? Io lo sdoppio. In questo modo riesce a fare sia la parte in Finlandia, sia la parte a Londra. Cioè, però, non ha un senso sul... cioè, perché è sdoppiato, non c'è una vera e propria motivazione, non lo so, è semplicemente è così. Quindi, guarda, due su due i racconti di Ambrosini purtroppo non hanno colpito il mio gusto personale, men che meno i disegni. Quindi, purtroppo, questo numero lo devo bocciare sotto ogni punto di vista. Spero che i prossimi numeri, plurale appunto, perché ci sarà anche il bis a luglio, quindi leggeremo prima la strage silenziosa che è il 430 bis e poi il 431 a fine mese. Speriamo che questi due numeri mi piacciono di più. Approfitto per scusarmi del fatto che ho interrotto un paio di retro-dealing, se non sbaglio, ma appunto non ho avuto modo di proprio di girare il numero di video che avrei voluto, quindi proprio i video si sono ridotti notevolmente e anche il retro-dealing ne ha risentito. Ne approfitto per ricominciare non questo mese che c'è il Dilan Dogbis, ma dal prossimo mese, quindi quando non ci sarà il Dilan Dogbis faremo un retro-dealing. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino, con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. e vi ringrazio per avermi seguito.